Sì, 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 Lukaku, ma no! Ma nooo, queste cose! E fallo! Oh! Non è fallo, scusa! Vabbè, no, scusa dai, però questo è fallo! Vabbè! 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 Abbiamo! Bravo, questo! Vabbè, lui voleva crossarla questa palla, ma era chiuso. Forse voleva calciare... Serimento di parella, Lukaku, Sanchez 1-2, al limite Sanchez 1-1 per Lukaku! Che col di merda! Che col di merda! Che col di merda! Che cazzo di culo! Grande Lukaku! Che col di merda! Che col di merda! Ma chi è la saliera a farcia? Che farcia, minchio! Finga che gol molo! Il gol di testa di Lukaku! Era un famoso gollozio questo qua, una volta era... Il 2-1. Però! 2... Finisce adesso il... Va, ragazzi. vittere in vantaggio 2 cazzo piano anticipato porca valero brozo vince fortunato nel tocco per sanchez e ma donna che traversa la giocata di sanchez 1 contro 1 va verso lukaku stocco lukaku in porta mamma mia bosis è scasso sto motore che cazzo minchia padellone ha preso ericsson stavo dicendo la stessa cosa ha staccato commentato tu un po la spina e quindi calanzipario inter si qualifica gli ottavi di finale di ora il solteggio domani no 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 no